Ogni lettera ha una sua specificità perché parla del carcere, parla della situazione dell'inchiesta, mi dice che l'inchiesta non finirà presto, mi racconta di quello che fa quando deve cucinare su questo fornellino e dice che la caffettiera sembra ubriaca. Sono tutte pagine di letteratura per cui non ce n'è una meglio degli altri. Certo racconta sempre la sua indignazione e per esempio c'è questa qui scritta in agosto poco prima che venga trasferito da Regina Celi a Bergamo e lui dice gli dei hanno gettato i dadi, questo è il gioco. Anna, che è la sorella, mi scrive dicendomi che mi tradurranno presto a Bergamo, io penso dopo il ferragosto. Queste feste sono sacre al nulla, la giustizia è al mare, noi nella merda. Quando per un attimo penso a questa vicenda rido, eppure la verità non c'è che un modo, tener duro, battersi, battersi fino all'ultimo respiro, urlare la propria innocenza, rispondere colpo su colpo. Sono ancora nel tunnel, sono diventato il caso, il giallo, tutto ciò che odio. Mi hanno rovesciato addosso infami e addirittura incredibili. Ma ciò avviene e così una vita come la mia, tutta piena di una tensione morale addirittura puritana, stoica, di ferro, viene prostituita parabola di malfattore. Puoi immaginare lo schianto, Gicciotto. Così la senatrice Francesca Scopelliti, a Leporano, per serate d'autore, lettere a Francesca, la raccolta delle lettere di Enzo Tortora nel momento più difficile della sua vicenda. Nel castello Muscettola di Leporano, a dialogare con l'autrice, Nicola Pastore e il sindaco di Leporano, D'Abramo. Lo Stato di diritto dovrebbe avere chiaramente dei punti di riferimento, dei punti sostanziali sui quali, e quindi sarebbe auspicabile che si arrivasse quantomeno al grado di Cassazione per poi esprimersi su alcuni casi. E poi hanno portato una serie di problemi, abbiamo visto nel tempo, di danni che la giustizia ha procurato a tantissime persone, ma non per colpa della giustizia, ma per colpa di alcuni. La gogna mediatica. La gogna mediatica, pentiti, erano falsi pentiti, tante altre cose, che ha indotto chiaramente gli ordini di giustizia a commettere degli errori. Sospensione del giudizio fino al terzo grado di un processo, questo lo dice la nostra Costituzione. La serata è stata organizzata con la collaborazione dell'operatore culturale Giuseppe Semeraro, l'assessore alla cultura, Iolanda Lotta. Lui grida proprio questa rivendicazione di innocenza e lo grida con amore verso questa persona che lui ama. A un certo punto dell'evento Nicola Pastore ha invitato il pubblico a partecipare. Tra i presenti il consigliere regionale Francesca Franzoso. Il libro Lettera Francesca è un libro che dovrebbero leggerlo tutti, dovrebbero leggerlo nelle scuole, dovrebbero leggerlo nelle aule universitarie. Chi studia giurisprudenza, appunto pensiamo alla prudenza, dovrebbe leggere questo libro così struggente, perché quando un uomo incappa nell'errore giudiziario, ecco io direi se capire è impossibile, conoscere è un nostro dovere. cartacea, rimane un grande esempio di letteratura per veramente l'elevatenza dei sentimenti, ma anche per la forma attraverso la qualità. Grazie. 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 Grazie.